Cari smanettoni, oggi è una giornata produttiva Allora, scambiare pad è molto semplice Ti basterà andare su quick, cliccare su pad exchange E semplicemente colpire i pad che ti interessano Puoi linkare due pad, ovvero collegare due pad praticamente In modo che suonino simultaneamente premendone solo uno Per effettuare questa operazione ti basterà andare su menu, kit, pad link E selezionare i due pad che vuoi collegare In questo modo potrai avere la traccia audio in uscita sul master Mentre una traccia clicca ad esempio su un altro pad collegato Che uscirà soltanto in cuffia per te Per cambiare nome on kit ti basta andare su quick, kit name Ed inserire il nuovo nome Poi premi enter ed è fatta Spero sia stato produttivo Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like E condividere il video Ovviamente A presto Grazie a tutti Grazie a tutti